Un incidente in auto quindi non è potuta venire, però insomma sarà ben rappresentata dal giornalista Michele Manfrin che subito dopo l'inizio dell'operazione speciale aveva scritto un illuminante un illuminante, scusate, aspettiamo il treno un po' di fantozzi sta cosa articolo sulla presenza di estreme frange fasciste e neonaziste che stavano in Ucraina ad addestrarsi non dal 2022 ma ben da prima e diciamo anche che io la situazione in Ucraina l'ho seguita un po' quindi Benedetta credo che sarà ben sostituita poi abbiamo anche con noi Antonio Mazzeo giornalista un mio carissimo amico che si è occupato per tanti anni è stato anche di recente in Ucraina gli chiederò anche di fare un intervento per quanto riguarda la situazione che c'è adesso perché è stato recentemente con mi pare due Antonio Carovane per la pace insomma cerchiamo anche di capire quello che sta accadendo in Ucraina nel 2014 un nostro ex compagno Gennaro Migliore disse se l'Ucraina ha un problema di nazismo sarà la democrazia a risolverlo non certo Putin poche settimane dopo un bravi sector prese insomma fece cadere il governo di Yanukovic e subito attraverso insomma una una la chiamano rivoluzione che venne condotta basicamente da due formazioni Svoboda che è un partito adesso lo chiamano nazionalista ultranazionalista ma quando venne fondato subito dopo la fin la caduta dell'Unione Sovietica si chiamava Partito Nazionalsocialista Ucraino direi che il nome non ha neanche bisogno di spiegazioni e stava a quel tempo nella stessa diciamo internazionale nera con Forza Nuova e Alba Dorata successivamente proprio sperimentando la guerriglia urbana del Maidan quelli che chiamavano gli studenti liberali gli studenti antiputin gli studenti per la democrazia si dimostrarono essere estremisti di frange parecchi provenienti dal mondo ultra dell'estrema destra e si diciamo organizzarono in quello che era un vero e proprio battaglione paramilitare bravi sector esiste tuttora alcuni dei suoi fondatori addirittura sono stati sono caduti in guerra e sono stati dichiarati eroi dell'Ucraina che aveva e continua ad avere legami con Casa Pound dei dettagli non indifferenti perché nel momento in cui cadde Yanukovic si formò il nuovo governo Svoboda ebbe ben quattro ministeri e la stessa bravi sector ebbe una certa rappresentanza in quel momento si si levò una certa solidarietà nel mondo neofascista nazifascista in Italia più che altro portata avanti da Forza Nuova e da Casa Pound poi Forza Nuova si ritrasse ricorse anche alla legge del diritto all'oblio per negare tutti i legami che aveva con il partito Svoboda però vediamo che l'Ucraina da quel momento non divenne soltanto un buco nero dell'Europa in cui si stava combattendo una guerra fantasma ma divenne anche un laboratorio delle destre neofasciste non solo dall'Italia ma anche da tanti altri paesi non solo dall'Europa ma anche dall'America Latina dal Brasile arrivarono parecchi fascisti radicalizzati ideologizzati anche di ispirazione nazista per andare ad apprendere quelle che erano le tecniche di guerra una guerra che in quel momento era diciamo una guerra a bassa intensità che si combatteva più che altro tra le trincee ma che adesso dopo diciamo l'escalation ha assunto delle dimensioni notevoli e quindi probabilmente esiste un progetto di questi gruppi neofascisti un progetto che chiaramente è molto inquietante e che in qualche modo non dimentichiamo che l'Europa che l'Occidente le cosiddette democrazie liberali le stesse che sostengono che l'Ucraina in questo momento sia una roccaforte dei nostri valori europei un piccolo stato democratico che resiste contro l'autocrazia di Putin stanno finanziando stanno e soprattutto stanno armando stanno addestrando quindi lascio la parola a Michele che aveva non so se già l'avevo detto un giornalista dell'Indipendente che nel marzo del 2022 ha condotto un'inchiesta su quelle che sono le trame di questa internazionale nera che sta prendendo piede da diversi anni a questa parte in Ucraina grazie Clara buonasera a tutti sì come appunto stava appunto dicendo Clara in Ucraina si è col tempo specie negli ultimi anni creata una rete internazionale di gruppi neonazisti che diciamo hanno visto nell'Ucraina la possibilità di consolidare trame tra i vari gruppi quindi consolidare un'alleanza che andasse diciamo così al di fuori anche dei confini dell'Ucraina ma che avesse il proprio epicentro proprio nel paese anche perché come è stato detto dopo il 2014 con sostanzialmente l'attacco alle popolazioni civili del Donbass hanno visto la situazione come una possibilità di imparare a fare la guerra anche perché parliamo di persone che comunque radicali che però vivono in paesi occidentali dove per fortuna insomma certe cose ancora non accadono e quello era diciamo sostanzialmente un teatro dove poter addestrarsi per poi la futura possibile guerra che poi per l'appunto è arrivata ma anche per riportare a casa propria dai paesi di origine da cui queste persone provenivano le tecniche imparate sia tecniche militari che quindi da poter usare proprio sul campo ma anche tecniche di propaganda o di fidelizzazione ovviamente tutto questo è diciamo si è implementato a partire dal 2014 dopo il colpo di Stato ma questi gruppi erano presenti già ben prima è inutile ora ricordare la storia dell'Ucraina anche durante la seconda guerra mondiale quindi il fatto che ci fossero larghe parti della popolazione che sostanzialmente credevano nei ideali nazifascisti e che però diciamo fino a un certo momento sono rimaste più o meno nascoste avevano il loro sfogo all'interno degli stadi come diceva appunto Clara molte di queste persone fanno parte dei gruppi ultra di varie squadre dell'Ucraina ad esempio Andrei Bileksky che è appunto il fondatore del battaglione Azov uno dei fondatori proviene da un gruppo che si chiamava Patrioti dell'Ucraina e che era parte della tifoseria della squadra di Kharkiv tant'è che molti del battaglione Azov benché appunto il battaglione prenda il nome dal mar di Azov provengono in realtà dalla regione di Kharkiv e anche per questo motivo avevano già stretti legami con quello che quando il battaglione si è creato era il ministro dell'interno Avakov che poi è quello che ha sostanzialmente incorporato all'interno dei gangli statali quindi legittimato questi gruppi compreso il battaglione Azov all'interno quindi delle strutture ufficiali militari e di pulizia dello Stato Ucraino dopo il 2014 come dicevo con l'attacco alle popolazioni civili del Donbass e quindi una legittimazione anche dal punto di vista politico e istituzionale questi gruppi hanno sentito che era il momento proficuo per consolidare il loro potere e hanno iniziato a tessere legami anche al di fuori dell'Ucraina soprattutto grazie al lavoro di Olena Semenyaka che è definita un po' la madrina del nazionalismo e del nazifascismo ucraino che ha stretto legami con vari gruppi in Europa ma non solo anche come diceva Clara in America sia nel sud che nel nord negli Stati Uniti sono diversi gruppi che hanno visitato l'Ucraina per apprendere le tecniche sia propagandistiche sia anche appunto di combattimento ricordiamo che questi gruppi hanno istituito vari campi di addestramento dove si sostanzialmente addestrava anche bambini ci sono tantissimi video che si trovano anche su internet dove si mostrano insomma bambini che hanno impugnano fucili inneggiano slogan nazisti o di pulizia etnica nei confronti dei propri fratelli del Donbass mi sono portato dietro l'inchiesta che appunto Clara citava prima che abbiamo pubblicato nel maggio 2022 con l'indipendente più che altro per anche riportarvi le parole precise senza diciamo intermediazione una mia intermediazione di quella che poi è un po' anche l'ideologia di questi gruppi e soprattutto ciò che Semeniaca ha scritto nel corso degli anni che ripeto è un po' l'ideologa del battaglione Azov e è colei che ha creato varie piattaforme affinché si potessero consolidare legami con i gruppi nazifascisti europei e non solo ad esempio leggendo gli scritti della Semeniaca si capisce subito che lei intende a differenza diciamo dei suoi predecessori andare oltre quello che era poi l'ideologia di fondo di questi gruppi che si rifacevano molto spesso come sicuramente sapete la figura di Stefan Bandera e che era quindi un tipo di nazionalismo patriotico nazifascista e ha voluto diciamo in qualche modo la Semeniaca così infiocchettare quest'ideologia che poi chiama una nuova metafisica che vorrebbe diciamo che si espandesse in tutto l'Occidente con anche insomma autori classici della filosofia europea e ad esempio nel suo libro del 2019 che si intitola Kay Figures of the Radical Right Behind the New Treat on Liberal Democracy spiega che sostanzialmente l'Ucraina ha bisogno di una appunto come dicevo nuova metafisica una nuova simbologia che si rifacesse sia al passato e quindi al conservatorismo ma che in qualche modo portasse anche qualcosa di nuovo anche per così avvicinare soprattutto i giovani e questo diciamo è stato fatto proprio anche in virtù del poi della possibilità di tessere legami con gruppi al di fuori dell'Ucraina e vengono citati vari autori classici come Nietzsche Heidegger Smith come anche intellettuali della destra francese come Dominic Werner che era un ex poi dell'OAS che era un gruppo paramilitare francese viene citato Andrea Evola noto come Julius Evola che poi era il sostenitore di una teoria della razza basata sullo spirito e quindi ecco il tentativo di Semeniaca è quello di andare oltre la figura mitizzata di Stefan Bandera anche per poter appunto dialogare un po' la stessa lingua con la stessa lingua dei gruppi al di fuori dell'Ucraina che si di certo conoscevano e conoscono Bandera ma ecco non è non è stato un personaggio principale per la cultura dei gruppi nazifascisti europei e così Semeniaca ha tra l'altro studiato filosofia insomma ha avuto anche un percorso di studi importante non è di sicuro una persona così che viene dalla strada come invece poteva può essere Bileksky Bileksky faccio sempre fatica a pronunciarlo e ad esempio in un altro suo libro sempre del 2019 che si chiama The Conservative Revolution and Right-wing Anarchism dice la rivoluzione conservatrice è qualcosa di simile alla trasvalutazione di tutti i valori è un approccio rivoluzionario non è reazionario e non è conservatore nonostante il titolo si sta muovendo verso il nuovo ordine nuovi valori e nuova metafisica dell'Occidente e da qui inizia poi tutto un discorso sul nichilismo attivo che riprende poi da da Nice e fa la differenza tra il nichilismo passivo e quello attivo e dice ovviamente che il nichilismo passivo è un qualcosa che è da rigettare è una sorta dice di di buddismo per cui tutto quello che accade sostanzialmente deve essere preso così come un qualcosa da accettare e invece lei propone questo nichilismo attivo per cui dice il nichilismo attivo è sano è un segno della crescita della forza dello spirito significa che i vecchi ideali non sono più validi ma è anche un processo creativo la distruzione è solo un lato di esso si dirige verso nuovi valori è come la trasvalutazione di tutti i valori da parte di un super uomo che distrugge tutti gli ordini screditati e si sforza per qualcosa di nuovo per qualcosa che sarà degno di seguire svilupparsi credere ed è per questo che la prima fase della trasvalutazione di tutti i valori è naturalmente nichilista rivoluzionaria distruttiva ma non è ancora una volta fine a se stessa è solo una fase ed è per questo che è una rivoluzione conservatrice non una sorta di filosofia conservatrice o una filosofia rivoluzionaria è rivoluzione perché in quello che diciamo è la teoria che poi è ben diversa in realtà dalla pratica che abbiamo visto e vediamo sostanzialmente Azov è la rete di gruppi con cui Azov ha stretto legami vorrebbero proporre un nuovo ordine mondiale che si discosta tanto da quello che diciamo propone la Russia o il blocco orientale tanto da quello che sono i valori occidentali anche se questo appunto è la teoria perché poi nella pratica vediamo che quantomeno per ora quantomeno per ora questi gruppi sono tutt'altro che indipendenti e ostili poi al blocco occidentale e ai valori occidentali quantomeno poi non sappiamo per il futuro quantomeno stanno sfruttando invece la parte occidentale per portare avanti i propri interessi nel futuro non sapremo e staremo a vedere diciamo anche perché se ascoltiamo quello che hanno detto queste persone nel corso degli anni come accennavo anche prima l'Ucraina tanto prima del 2022 quanto dopo lo scoppio della guerra russo-Ucraina è appunto considerata come un laboratorio come un campo di addestramento al fine di riportare poi nei paesi di origine di cui fanno parte questi gruppi le cose imparate appunto in Ucraina e quindi insomma c'è anche da in qualche modo preoccuparsi noi abbiamo sappiamo bene qual è la storia italiana sappiamo cosa è stata la strategia della tensione e quant'altro sappiamo che queste cose possono essere utilizzate per terrorizzare la popolazione per distrarla o per portarla verso insomma orizzonti che i cittadini magari presi dalla paura non riescono a vedere e quindi ecco nell'intenzione quello che propone Azov e quello che propone questa quella che ho chiamato internazionale nera è una terza via sostanzialmente che proprio è così che viene chiamata tra l'altro uno dei gruppi dei partiti anche se insomma è stato poi censurato in Germania che fa parte di questa rete è proprio Der Treweig che significa la terza via che è un partito chiaramente nazista tedesco che più volte in Germania ha portato avanti i pogrom nei confronti delle minoranze etniche che ha fatto manifestazioni in sostegno di Azov specie durante l'assedio russo a Azovstal e quindi ecco benché possiamo vedere che al momento al momento non è assolutamente come loro teorizzano però queste sono le intenzioni di queste persone che tra l'altro hanno poi così una simbologia una mitologia anche abbastanza bizzarra ad esempio è uno scritto del 2012 sempre della Seminiaca in cui analizza il black metal non so se sapete il genere musicale analizza il black metal sotto un punto di vista filosofico politico attraverso il concetto che lei chiama il luciferanesimo ariano che sostanzialmente mette insieme simboli appunto satanici con simboli nazisti e che lei dice sostanzialmente è una sorta di romanticismo che mescola violenza e potere cioè quindi sono cose un po' anche potremmo dire new age nel senso che si prende molte cose si mettono assieme per creare un qualcosa di nuovo un qualcosa che possa essere anche di accattivante magari per fare proselitismo tra i giovani e così ecco questi questi gruppi hanno sostanzialmente creato questa rete a livello internazionale tramite anche varie piattaforme che hanno permesso loro di riunirsi nel corso del tempo ad esempio nel 2018 a Kiev ci fu una riunione del movimento Reconquista il nome del movimento deriva dalla Reconquista Spagnola sugli Arabi del 1492 e questo già anche dà un'idea di quello che queste persone intendono rispetto alle altre culture a determinate culture durante questa riunione ci fu una presenza massiccia di gruppi europei e extraeuropei a cui partecipò anche Alberto Palladino di Casa Pound che era il responsabile delle relazioni internazionali di Casa Pound oltre a varie altre personalità c'era Vikorev che è un russo del coordinatore del centro russo c'era appunto come dicevo una delegazione del partito tedesco Dertreveg la terza via ma c'era anche una delegazione svedese di Alternative for Sweden come così di Alternative for Norge che sono tutte e due dei gruppi estremisti appunto uno svedese uno norvegese che di frequente insomma mettono in atto anche operazioni violente nei confronti delle minoranze etniche ma c'era anche Greg Johnson che è un noto intellettuale statunitense un suprematista bianco che ha scritto il manifesto del nazionalismo bianco molto molto noto appunto negli Stati Uniti e c'era anche una delegazione canadese quindi insomma era una riunione molto molto partecipata anche dall'estero e in quella riunione appunto si parlava del fatto che c'era la necessità qui siamo nel 2018 quindi quattro anni prima dello scoppio del conflitto almeno del conflitto esteso perché appunto in realtà la guerra in Donbass c'era già le persone venivano venivano uccise i bambini come diceva Poroshenko vivevano nelle cantine non andavano a scuola al contrario dei loro concittadini degli altri bambini ucraini e appunto si spiegava della necessità di creare questa nuova metafisica dell'occidente per creare innanzitutto una nuova Europa si vedeva la possibilità di sostanzialmente conquistare in un modo e in un altro l'Europa anche da un punto di vista di istituzioni europee tra l'altro il movimento reconquista e quindi anche Azov ma anche Svoboda Pravisi Hector e altri gruppi estremisti ucraini avevano e danno come riferimento per una possibile nuova geopolitica dell'area il progetto Intermarium che era un progetto che veniva da lontano ma che sostanzialmente è stato poi ripreso più volte un progetto che sostanzialmente dovrebbe riunire paesi dell'est Europa in un unico blocco Intermarium il nome viene appunto dai tre mari perché dovrebbe riunire i paesi che vanno dal Baltico all'Adriatico e ora non mi viene il terzo mare il mare nero esatto e quindi tutto questo gruppo di paesi si parla di 80-100 milioni di persone che avrebbero dovuto creare un blocco non è chiaro se a sé stante o che comunque facesse parte dell'Unione Europea e che in qualche modo andasse poi ad influenzare quelle che sono le direttrici dell'Unione Europea e anche questo progetto è stato nel tempo portato avanti anche da delegazioni ufficiali dei paesi appunto dell'est Europa anche perché era visto come un modo per creare una sorta di scudo antirusso e quindi sostanzialmente delegare ai paesi dell'est Europa la prima linea di difesa dall'eventuale invasione russa dell'Europa e abbiamo visto in questi ultimi anni di conflitto come i paesi dell'est Europa e in particolare quelli del nord est quindi Polonia Lettonia Lituania Estonia come siano stati ben contenti e ben felici di partecipare e che abbiano dato un aiuto importante sostanzialmente alla guerra da parte ucraina e questo progetto come dicevo è stato portato avanti da delegazioni ufficiali degli stati più e più riunioni sono state portate avanti ovviamente gli Stati Uniti avevano un grande interesse erano il maggior sponsor anche di questo progetto perché ovviamente gli Stati Uniti avevano interesse tanto a creare questa sorta di blocco che sarebbe dovuto essere uno scudo difensivo dell'Europa tanto anche per in qualche modo dividere l'Europa stessa che è poi un po' l'obiettivo che gli Stati Uniti hanno avuto e hanno portando avanti e sostenendo il conflitto russo-ucraino quindi era un modo sostanzialmente per dividere l'Europa creare un blocco di paesi fedele agli Stati Uniti e alla Nato che sostanzialmente non avessero remore come magari invece negli ultimi anni alcuni Stati europei hanno avuto nei confronti della Nato alle spese militari richieste dalla Nato il famoso 2% e quindi ecco c'era anche e c'è stato un grosso appoggio politico istituzionale ufficiale da parte proprio degli Stati quindi una legittimazione a questo progetto internazionalista nazifascista ovviamente che di comune interesse chi per un motivo chi per un altro avevano di creare questo blocco che si frapponesse tra la Russia e l'Europa centrale e come dicevo appunto negli ultimi anni di conflitto abbiamo visto come questi paesi poi in effetti abbiano proprio perseguito questi obiettivi questi direttrici che poi provenivano anche da questi gruppi nazifascisti e non solo ucraini sebbene loro fossero i più interessati ovviamente ma anche europei come dicevo prima Casa Pound ha partecipato ma ha partecipato anche Forza Nuova nonostante come poi ci dicevamo con Clara nel corso degli anni sia Casa Pound che Forza Nuova abbiano giocato un doppio gioco perché alcune diciamo alcune frange alcune parti hanno anche combattuto invece dalla parte diciamo russofona russofila nel Donbass non si sa se per una vera e propria se ci credessero veramente in quello che stavano facendo o se invece fosse una sorta di strategia per raccogliere anche informazioni per una sorta di infiltrazione nel campo avversario poi da sfruttare in un secondo momento quindi ecco abbiamo visto nel corso di questi anni che molte cose che questi gruppi e organizzazioni estremiste naziste fasciste hanno in qualche modo sognato in qualche modo cercato di organizzare poi effettivamente si sono realizzate tra l'altro poi come dicevo in precedenza quando si dice che l'Ucraina è uno stato nazista non lo si dice perché in Ucraina ci sono un po' di nazisti e allora è uno stato nazista molte volte chi obietta questa cosa dice anche in Italia ci sono i nazisti sì ma i nazisti non stanno al governo non stanno nei ministeri non stanno a capo della polizia non stanno nei reparti militari cioè questi gruppi sono stati cooptati in maniera istituzionale all'interno dei gangli statali per questo che si parla di Ucraina come stato nazista sostanzialmente perché i nazisti ricoprono ruoli apicali nello stato nelle forze armate nella polizia uno dei comandanti di Azov è stato adesso mi sfugge il nome è stato per anni capo della polizia della polizia ucraina quindi è chiaro che insomma questi gruppi hanno avuto ed hanno un grosso potere ricordo un articolo che scrissi sempre nel nel 2022 su Zelensky perché venne fuori l'obiezione anche sul fatto che appunto l'Ucraina fosse uno stato nazista dicendo che però Zelensky è ebreo come si fa a dire che l'Ucraina è uno stato nazista se Zelensky è ebreo a parte l'effettiva ebraicità di Zelensky se poi sia praticante o meno questo non lo so ma non è nemmeno tanto rilevante è rilevante quelli che sono i fatti le persone di cui poi si è circondato volendo no perché come sappiamo Zelensky si è candidato e si è posto come colui che avrebbe risolto il conflitto in Donbass e anche per questo è stato votato salvo poi dover fare conti con questi gruppi che avevano acquisito un grosso potere e ricordo di un articolo che ho scritto su un fatto accaduto a Zelote che è una cittadina che all'epoca era appunto sulla linea del fronte del conflitto in Donbass dove Zelensky andò a parlare con i capi del battaglione Azov sul campo dicendo sostanzialmente basta vi dovete fermare come se quasi lui non fosse diciamo non avesse il controllo poi di quello che stava succedendo e andò sostanzialmente a pregare queste persone di fermarsi e queste persone non solo gli risero in faccia nei giorni successivi arrivarono più e più minacce di morte a Zelensky che guarda caso la settimana dopo organizzò una riunione presso il palazzo del governo circondato c'era una foto circondato da tutti questi comandanti e capi di queste organizzazioni estremiste con cui sostanzialmente dovette piegarsi al loro volere e questo ci fa dire quindi che l'Ucraina è uno stato nazista quando il presidente che è ebreo e che si è candidato come colui che avrebbe risolto il conflitto in Donbass che fosse vero oppure no non si sa in politica tante volte si fanno promesse per avere un ritorno elettorale però che fosse vero oppure no poi si circonda di tutte queste persone e si sottomette al loro volere che gli dissero guarda te puoi dire tutto quello che vuoi ma qui le cose stanno così e vanno avanti così e quindi ecco insomma la situazione Ucraina ci fa in qualche modo anche no temere per quello che poi sarà il futuro anche dell'Europa stessa perché se queste persone verranno sempre di più spinte a ricoprire ruoli importanti a livello istituzionale e in Ucraina e in altre organizzazioni internazionali Unione Europea compresa o comunque che hanno che tragano un'ispirazione da queste idee di riforma dell'Occidente di creazione di un nuovo ordine mondiale basato su valori che Semeniaca dice essere romantici quali il potere e la violenza e insomma c'è da essere preoccupati anche perché come dicevo molti di queste persone sono andate laggiù per imparare e viene in mente un cittadino norvegese Furlom che proprio alla televisione un regista fece un documentario su quanto stava accadendo in Ucraina e in televisione proprio disse chiaramente che lui sarebbe tornato in Norvegia e avrebbe fatto capire al governo norvegese come dovevano essere le cose e il governo norvegese poi insomma diciamo non la prese molto bene su questa pubblicità che Furlom fece che tra l'altro era in uno di questi centri di addestramento per cui lui disse durante l'intervista in questo documentario chi ci coloro per cui stiamo lavorando e quindi per chi stanno lavorando coloro per cui stiamo lavorando ci stanno addestrando e io poi porterò il mio addestramento in Norvegia e farò vedere al governo norvegese cosa abbiamo imparato qua e cosa dovrà essere poi anche il futuro della Norvegia anche perché uno dei gruppi per esempio attivi in questa internazionale vi dico il nome esatto è il Nordic Resistance Movement che in realtà è un gruppo di vecchia data nasce negli anni 90 ma che si è rafforzato soprattutto a partire dagli anni 2010 in poi e ovviamente dopo il 2014 il colpo di stato ha avuto la capacità e la legittimazione di allacciare i rapporti sempre più stretti con i gruppi ucraini è un gruppo attivo soprattutto nel nord Europa quindi Norvegia Danimarca Islanda Finlandia e più volte hanno visitato Kiev hanno visitato insomma il battaglione Poi c'è questa cultura molte volte gli incontri sono avvenuti in Fight Club perché c'è questa cultura di unire appunto queste ideologie con gli sport da combattimento l'MMA o altre arti marziali insomma e quindi c'è questa cultura come dicevo che poi è anche un tentativo di unire più cose per sostanzialmente essere anche più attraenti a livello politico e quindi combattimenti di arti marziali miste piuttosto che concerti quelli ci sono un po' sempre stati diciamo però ecco sono delle vere e proprie feste dove si canta si balla si fa botte e poi si parla sostanzialmente di cambiare l'Europa l'Occidente con questi valori di cui accennavo prima il romanticismo del potere della violenza la nuova metafisica del nuovi valori e nuova metafisica una rivoluzione conservatrice che non è conservatrice però è rivoluzione questo nichilismo attivo che accoglie la distruzione per far posto a nuovi valori perché si vede poi che evidentemente una ragione ce l'hanno nel senso che i valori dell'Europa dell'Occidente sono in decadimento totale e questo non si può di certo negare e loro vedono questo come un momento proficuo per inserirsi e in qualche modo fare attecchire quelli che sono i loro valori e come dicevo prima questo è stato fatto anche andando oltre Stefan Bandera di cui si è sentito parlare molto molto spesso ma che poi diciamo non era non attecchiva molto rispetto poi ai vari gruppi che in Europa ma anche negli Stati Uniti negli Stati Uniti due gruppi sono molto molto attivi e molto importanti che negli Stati Uniti vengono perseguiti perché se si sostengono in Ucraina laggiù invece queste persone vengono incarcerate anche perché si parla di omicidi di detenzione di armi e quando ti arrestano negli Stati Uniti per detenzione di armi vuol dire non che hai qualche pistola e qualche fucile ma si parla di esplosivi materiale militare uno è Rise Above Movement che è sede in California ma che è poi radicato in varie parti degli Stati Uniti uno è l'Atom Waffen Division che anche qui il nome ci fa un po' capire qual è l'estrazione insomma di origine che tra l'altro è un gruppo anche questo che viene dagli anni 90 che si è espanso non solo in tutti gli Stati Uniti ma anche in Europa Italia compresa probabilmente faceva parte o comunque era perché poi molte di queste persone non fanno parte di un gruppo solo ma fanno parte di più gruppi proprio anche per far sì che si cementi questo legame tra i vari gruppi e non ricordo quando è stato l'anno scorso quando ci sono stati gli arresti dell'ordine di Agal in Italia che aveva due anni fa uno o due anni fa sostanzialmente questo ordine di Agal che sostanzialmente faceva base per lo più a Napoli ma che anche qui aveva vari membri sparsi in tutta Italia persone che sono state arrestate perché stavano progettando attentati tra cui un attentato a una caserma di polizia a Napoli e come dicevo questo 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 ordine di Agal molto probabilmente era collegato a questa Atom Waffen Division che come dicevo ha propaggini in vari paesi dell'Europa anche in Italia e poi di recente è venuta fuori un'inchiesta giornalistica condotta in Germania di nuovi gruppi che stanno nascendo come Centuria che in realtà è un gruppo che già fa parte dell'esercito ucraino ormai perché sono tutti stati incorporati poi nei gangli statali ufficiali e che è stata diciamo è stata aperta una filiale sostanzialmente in Germania che sta facendo molti proseliti soprattutto a Madme 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 Burgo esatto ma che ha già molte persone affiliate in tutta la Germania quindi insomma vediamo che silenziosamente o quantomeno silenziosamente da parte dei media mainstream però questi gruppi ci sono e stanno espandendo sempre di più la loro rete e molto spesso ormai si sentono anche legittimati a operare alla luce del sole insomma senza molte remore ecco ok io prima di passare prima di passare alle domande volevo anche sentire Antonio puntualizzare anche una cosa tu hai parlato di Zelensky ebreo ma sappiamo che chi ha fondato finanziato questi battaglioni nazisti non solo è ebreo e sto parlando di Igor Kolomoisky ma ha anche il passaporto israeliano ed è presidente del consiglio ebraico d'Europa una cosa del genere la questione è che quando c'è di mezzo la geopolitica quando ci sono di mezzo gli interessi imperialisti l'ideologia le remore ideologiche cadono gli Stati Uniti hanno sempre utilizzato la peggior feccia parliamo dell'Isis parliamo dei fascisti sudamericani per andare a condurre quelle che sono le loro operazioni di guerra sporca di guerra ibrida i loro colpi di stato e in qualche modo poter mettere le mani su quelli che loro considerano dei territori di interesse come l'Ucraina che chiaramente diventa un territorio diciamo uno stato cruciale sia per quanto riguarda l'espansione ad est della Nata e quindi avere Mosca ad uno schioppo di tiro dalle armi nucleari o con quei dei missili anche per quanto riguardava i progetti di cui si parlava prima dell'Inter dell'Inter Marium l'Ucraina in questo momento è uno stato fallito è uno stato in cui non si sono tenute le elezioni presidenziali con una incredibile nonchalance come se fosse la cosa più normale del mondo anzi Zelensky ha detto non facciamo le elezioni perché questo comprometterebbe la nostra democrazia arriviamo al paradosso assoluto è uno stato in cui ci sono delle persecuzioni politiche è uno stato in cui ci sono delle persecuzioni religiose delle persecuzioni linguistiche c'è anche una specie di obundusman difensore civico per la lingua il cui scopo non è difendere la lingua ma perseguitare chi non utilizza la purezza linguistica dell'Ucraino quindi c'è un processo di creazione a tavolino di una cultura una cultura che è antirussa per sua genesi perché si deve distaccare dalla componente russa e qual è il modo migliore per creare questa componente antirussa andarsi a basare sul nazionalismo non quello di sinistra di Maknò ma quello che più odia quello che diventa più una provocazione per la Russia che chiaramente è il nazionalismo filo germanico filo nazista di Stepan Mandela chiaramente una nazione del genere è una nazione che è messa lì e sostenuta per continuare a fare la guerra qualsiasi persona che è qualsiasi gruppo che cerca la pace viene considerato un traditore un collaborazionista un agente di Putin chiaramente guardiamo all'Ucraina ma guardiamo anche il nostro futuro perché è quello che succederà anche in Italia anche in Europa se la situazione diventerà ancora più conflittuale e pensiamo soltanto che in questi giorni ci sono stati degli scandali politici guidati da Azov o da veterani dell'Azov che hanno fatto valere il proprio peso politico sociale per andare a contrastare dei deputati ma anche Zelensky perché quando Zelensky negli scorsi giorni ha detto sì possibilmente potremmo sederci a un tavolo per fare la pace uno dei comandanti di Azov ha detto no non ci sarà nessuna pace fino a quando non riavremo indietro i nostri territori io vorrei prendermi cinque minuti per far intervenire Antonio che è stato due volte in Ucraina da quando è iniziata la guerra con la carovana della pace potessi testimoniare quella che è la situazione in questo paese no più che più che su questo è veramente l'intervento mi ha riportato indietro ho apprezzato tantissimo è quello che veramente mi preoccupa non è soltanto sul fronte interno ucraino ma quello che potrebbe rappresentare per tutto il continente l'internazionale nera anche perché c'è riportato indietro agli anni 60 e 70 quando si è costruito in Europa con il sostegno della Nato con il sostegno degli Stati Uniti e di buona parte dei servizi segreti la stessa internazionale che si finanziava si formava e si addestrava in Spagna si addestrava in Grecia si addestrava in Turchia e che poi in Italia ci ha messo le bombe e ha bloccato qualsiasi processo di trasformazione chi si sta addestrando in Ucraina ovviamente con la copertura dei servizi segreti internazionali delle grandi agenzie della Nato eccetera oggi ce lo ritroviamo a casa nostra e può essere utilizzato in qualsiasi momento ovviamente per colpire in uno stato di crisi europea di crisi strutturale di crisi economica di crisi occupazionale e diventa veramente una punta di diamante lanciata contro ogni forma di trasformazione democratica ecco quello che ti ringrazio per questo perché mentre parlavi oggettivamente mi hai fatto mi hai riportato veramente 50 anni indietro con quello che ha rappresentato quella fase con la differenza purtroppo che in quella fase c'erano molti anticorpi all'interno anche del nostro paese nel mondo sindacale nel mondo politico eccetera oggi siamo completamente veramente ci presentiamo di fronte a questi scenari con veramente disarmati e con le mani in alto questo è il primo aspetto per cui veramente ti ringrazio per il lavoro e questo ci impone impone a chi ha l'obbligo dell'informazione a continuare ad analizzare e studiare anche quello che si muove esattamente quello che veniva fatto anche negli anni 60 negli anni 70 dalla controinformazione che ricostruiva le identità culturali e ideologiche delle organizzazioni di estrema destra dobbiamo continuare a farlo per non trovarci impreparati questo è il secondo aspetto il terzo aspetto per utilizzare quello che diceva Clara prima prima che ci impongano il dovere all'oblio allora prendiamoci il diritto e il dovere della memoria cioè questo battaglione Azov che sistematicamente nella stampa mainstream viene sempre detto come un soggetto a parte un soggetto terzo perché esisterebbe un esercito o una guardia nazionale democratica ucraina che combatte cioè il battaglione Azov è stato istituzionalizzato nel 2014 e ha creato dalle ceneri di quelle organizzazioni ha creato la guardia nazionale che è un reparto di elite di eccellenza nelle operazioni di guerra che non ha soltanto la funzione di guerra alla Russia ma una funzione di controllo interno perché la guardia per cui hai fatto bene a ricordare quando all'interno del governo ucraino qualche giorno fa si tentava di rimettere in discussione un modello e tentare se c'erano le condizioni all'apertura immediatamente dal battaglione Azov si è detto questo non succede e Zelensky ha riprodotto esattamente lo stesso testo che i leader del battaglione Azov avevano per cui è la prova evidente del controllo interno prima che ci sia questo obbligo di dimenticare dovremmo ricordarci che quando fu costituito nel 2014 la guardia nazionale col battaglione Azov quell'operazione di formazione di addestramento e di costituzione è stata effettuata dalla 173 brigata aviotrasportata delle forze armate statunitensi che non ha sede a Washington che non ha sede eventualmente negli Stati Uniti ma che ha sede in Italia che ha sede a Vicenza che ha sede ad Aviano ad Aviano sono partiti gli aerei per andare a Kiev e formare questo non ce lo dimentichiamo perché questo comporta anche un ruolo determinante che il nostro paese ha dato alle operazioni di logistica di costruzione logistica dei reparti di elite di eccellenza delle forze armate ucraina e lo dico tra l'altro a Pisa perché molte delle operazioni di coaddestramento e anche di sostegno logistico alla 173 brigata aviotrasportata la dà la 46 brigata aerea che ha sede nell'aeroporto di San Giusto questo per comprendere anche questo ruolo allora a questo punto consentitemi anche perché purtroppo l'informazione mainstream fa in tutti i modi per farcelo dimenticare Clara ha coperto un ruolo fondamentale con Ottolina per ricordarcelo non c'è ormai operazione di guerra che le forze armate ucraine stanno effettuando soprattutto sul fronte del Mar Nero sulla Crimea l'ultimo il bombardamento sulla spiaggia a Sebastopoli che non veda direttamente coinvolto il territorio italiano perché è dal territorio italiano da una base militare in Sicilia la base di Sigonella che partono sistematicamente le operazioni degli aerei con e senza pilota delle forze armate statunitense e delle forze armate della Nato cioè col simbolo della Nato che hanno proprio il compito di coordinare guidare gestire e sostenere le operazioni di attacco e l'ultima operazione questo non è che lo diciamo noi perché siamo da una parte e siamo contro questo conflitto cioè io sono rimasto sconvolto a leggere Gianpiero Gaiani di Analisi Difesa che tra l'altro è sistematicamente invitato nelle trasmissioni della RAI e della Sette eccetera in cui tranquillamente ha avuto cosa di scrivere che le operazioni con i missili Aymars quelli che sono stati lanciati a Sebastopoli tra l'altro producendo una strage di civili ci sono stati cinque morti di cui tre minori di età tre bambini e un centinaio circa 120 feriti ebbene quelle operazioni militari da parte dei missili Aymars non possono non essere effettuati senza l'operazione di controllo di coordinamento di sostegno logistico da parte degli aerei come i pattugliatori Poseidon o nel caso specifico di Sebastopoli si è trattato di un Global Oak un drone della USA Air Force si è decollato ancora una volta dalla base di Sigonella questo non può non entrare nell'argomento di dibattito politico nel nostro paese poi non ci possiamo lamentare pensando al primo panel che abbiamo queste reazioni elettorali noi abbiamo il dovere di fare in tutti i modi di imporre nell'informazione che il nostro paese non sta soltanto armando inviando armi in violazione della costituzione delle leggi non soltanto stiamo ci prepariamo ad addestrare direttamente a sostenere sapete che al prossimo vertice della Nato tra un paio di giorni a Washington verrà formalizzata l'istituzione di un centro e di coordinamento delle operazioni militari della Nato sull'Ucraina in questo momento a Wiesbaden in Germania in cui però vedranno 700 militari della Nato che avranno proprio il compito funzionale di coordinare le operazioni di guerra a questo si aggiunge la notizia che verrà formalizzata a Washington l'istituzione di un alto commissario della Nato per la guerra in Ucraina che non si insedierà a Bruxelles o a Wiesbaden ma che si insedierà direttamente a Kiev di fatto accelerando ulteriormente il processo di guerra e ovviamente ponendo ancora più in alto l'asticella di un conflitto ormai reale che non è quello russo-ucraino ma che è quello Nato russa Grazie Antonio Allora io abbiamo ci prendiamo qualche qualche minuto in più se ci sono degli interventi delle domande dal pubblico sarò telegrafico in maniera molto telegrafica ogni tanto si vede qualche associazione in Italia diciamo pro-ucraina senza fare nomi specifici però anche nel mio territorio dove vengo ce ne sono che fanno raccolte fondi più o meno dichiaratamente per assistere i battaglioni ucraini ma alcuni anche per raccogliere i viveri per la popolazione civile quello per carità sempre meritorio e chiedono spesso fanno affermazioni poi anche molti politici italiani fanno affermazioni dicendo che dovremmo mandare i nostri soldati i nostri militari direttamente in Ucraina perché sappiamo perfettamente che il prossimo passo è quello cioè l'ingresso diretto di militari all'interno del cioè l'ingresso ufficiale perché poi in realtà militari all'interno dell'Ucraina europee americani che già oggi operano ce ne sono già e ci sono prove contro prove che questo avviene non facciamo un altro ragionamento ci sono migliaia di disertori ucraini presente nel nostro paese che spesso fanno parte di questa associazione che dicono dovete mandare i ragazzi italiani a combattere in Ucraina più in più una volta uno ti dice scusa ma te hai 30 anni sei in Italia sei ucraino facci te prima se proprio ci devi andare se proprio sei così convinto e d'altra parte ci sono invece militari italiani che sono partiti ieri proprio sentivo su Radio 24 l'intervista a questo ragazzo italiano che è partito per andare a fare volontario nella legione internazionale in Ucraina che vanno presi e denunciati perché anche questo perché è contro la legge italiana andare a combattere per uno stato estero è alto tradimento pure semplice anche rispetto a queste organizzazioni qui interne quindi la domanda è come muoversi perché queste intanto sono associazioni che si muovono e a cui sembra permesso tutto permesso di fare tutto comprensivo il fatto che ho visto un'associazione facendo un barchetto compriamo armi per l'Ucraina ufficialmente proprio senza nascondersi senza come bisogna comportarsi e come possiamo comportarci rispetto a questo tipo di realtà sul nostro territorio che sono realtà che sono molto finanziate hanno fatto le associazioni perché spesso ricevono contributi pubblici e appunto però minano il nostro territorio dall'interno in un comportamento anche molto molto ipocrita appunto io la faccio con una battuta dicendo ma vacci te che sei ucraino a combattere l'Ucraina prima di mandarci gli italiani è una battuta provocatoria voglio che sia chiara questa cosa qui vorrei che non ci andasse nessuno a combattere l'Ucraina e che la finissima con questa storia però sono realtà che vengono molto sottaciute molto prese alla leggera e di cui ovviamente non se ne parla e che entrano anche questo lo dico anche da insegnante che delle volte entrano anche dentro le scuole entrano dentro le scuole entrano a parlare con i ragazzi di ogni ordine grado entrano a fare propaganda entrano hanno un forte appoggio da parte delle istituzioni locali tanto che è vero che a Ravenna era stata fatta una gigantesca bandiera palestinese vicino a casa mia tra le altre cose in un campetto da basket è stato un quartiere fatto al 90% dai migrati è stata cancellata dal comune però la nostra compagna di Ravenna è stata denunciata perché è andata a verniciare e a togliere con lo stesso colore del muro le svastiche naziste davanti ai licei quindi coprire le svastiche naziste è un reato cancellare una bandiera palestinese è un atto civile grazie perché dipende sempre da che parte uno sta e da chi in quel momento comanda esempio ci sono un paio di persone che sono andate a combattere nel Donbass dalla parte diciamo filorussa e che per questo sono state perseguite e ricordiamo ora non ricordo il nome della ragazza pilota di aereo che è andata in Ucraina e che è stata incensata sia dai giornali che dalle istituzioni istituzioni che tra l'altro accolgono in Parlamento membri di Azov come di altri gruppi estremisti quindi non mi sorprende se poi anche di conseguenza anche all'interno delle scuole ci siano iniziative o progetti in cui sostanzialmente si in qualche modo legittima questi gruppi e quello che fanno e per quanto riguarda la presenza di ucraini in Europa in Italia ma non solo come dicevo prima il gruppo che è stato creato in Germania Centuria che poi è sostanzialmente una filiale del gruppo che già esiste in Ucraina è proprio formato da persone che non si sa bene perché visto che sono molto diciamo così accalorate che non vedono l'ora di portare l'Europa in guerra non si sa perché stanno in Germania però fanno propaganda e proselitismo affinché appunto si arrivi all'idea di magari mandare le truppe dei paesi europei a combattere nel loro paese io capisco che la tua ovviamente è così una provocazione e che si spererebbe che nessuno debba andare a combattere però sostanzialmente insomma è un'affermazione vera e legittima se tu sei così tanto convinto dei tuoi ideali e di quello che stai affermando perché sei in Germania perché sei in Polonia perché sei in qualsiasi altro paese dell'Europa a chiedere a me di venire a combattere in Ucraina prima di tutto difendilo tu il tuo paese se credi che debba essere difeso se credi negli ideali che stai che stai portando avanti e quindi cosa si potrebbe fare le leggi ci sarebbero per far sì che questo non accada come tu dicevi c'è una legge che vieta di andare a combattere per un altro paese tra l'altro poi si trovano sempre scamotage perché la legione internazionale che è stata creata da Zelensky all'inizio della guerra è stata poi creata fondamentalmente per questo perché i mercenari i volontari e quant'altro non avevano bisogno della legione internazionale già potevano andare a far parte dei vari gruppi che c'erano tipo la legione georgiana ha molte persone provenienti da vari paesi d'Europa ma anche degli Stati Uniti la legione internazionale è stata creata per tutte quelle persone che non sappiamo poi dire con precisione quante facevano parte di eserciti europei e che magari si prendono non lo so si dimettono si congedano o chi che sa e poi si uniscono come volontari alla legione internazionale quindi c'è anche poi il modo per evadere un po' quelle che sono le leggi che però ci sarebbero e che però vengono applicate in base a da che parte sta uno ecco e quindi appunto se cancellare le svastiche diventa un qualcosa di perseguibile mentre cancellare la bandiera palestinese no stessa cosa vale per quanto riguarda il conflitto russo-ucraino io se posso rispondere diciamo l'Italia si è trovata un po' con le mani legate ma il gioco che sta facendo è chiaro dall'idea che mi sono fatta parlando così in giro molto probabilmente i servizi subito dopo lo scoppio dell'escalation sono andati a reclutare a cercare tra i gruppi della destra radicale e gli ex militari molto probabilmente e per questo poi ci siamo trovati con questa ragazza in in Ucraina credo che insomma questa sia la conferma delle mie idee assieme ad un'intervista che credo che abbiamo visto tutti alla 7 quando venne intervistato un siciliano tra l'altro che era stato nel battaglione Azov e aveva lasciato capire che era questo il modo in cui si sono arrivati lì prima ancora del 2022 un'altra cosa inquietante alcuni mesi fa sul mio canale telegram ho pubblicato un video che era non so se definirlo ridicolo appunto inquietante perché venivano mostrati mi ci hai fatto pensare tu parlando del battaglione giorgiano tre volontari italiani che si erano arruolati in questo battaglione giorgiano andiamo a vado a vedere questo video ed erano evidentemente dei poliziotti dalle movenze erano evidentemente dei poliziotti perché sembrava uno di quei video che la polizia i carabinieri insomma dopo che c'è un arresto o c'è un'operazione avevano le stesse movenze lo stesso modo lo stesso modo di parlare c'erano pochi dubbi poi quella diciamo quell'episodio rimase così abbastanza in aria perché non si seppe più nulla di questi di questi tre volontari è rimasta così la cosa però insomma abbastanza inquietante per quanto riguarda invece gli ucraini che sono qua e che non vanno e non si capisce cosa ci facciano qua senza fare nomi è chiaro che ci sono anche delle operazioni di intelligenza militare da parte dell'Ucraina un famoso tra virgolette giornalista ucraino che abbiamo visto spesso alla setta e che si era pure permesso di minacciare di morte un altro giornalista russo tempo fa quando su twitter x come si chiama adesso gli chiesero ripetutamente ma tu che sei così patriottico così contro la Russia perché non vai a combattere perché io sto sul fronte dell'informazione allora poiché questo giornalista non scrive su nessun quotidiano ucraino c'è da pensare che insomma ci siano dei ruoli ben specifici ce ne sono altri di ucraini ora in questo momento la situazione della mobilitazione per gli ucraini è particolarmente tragica è particolarmente tragica perché non ci sono più quelle due persone che a settimana scappano drammaticamente cercando di attraversare a nuoto quel gommonico braccioli il Tibisco disperdendosi per i monti che li separano dalla cosa è dalla dalla Moldavia mi pare o dalla Romania adesso sono anche 100 persone che vengono bloccate tutte in una volta dalla guardia di frontiera nella transcarpazia ma giornalmente ma non è che lo dico io perché a me mi chiama Putin la mattina mi dice Clara andate a guardare su un qualsiasi canale Telegram dell'SBU della guardia di frontiera della procura tanto con Telegram facilmente si fanno le traduzioni col traduttore di Telegram ma loro se ne vantano dicono noi abbiamo fermato 40 persone che stavano cercando di fanno pure la battuta 40 alpinisti sono stati fermati addirittura hanno creato se ne sono si sono vantati pure di questo di aver creato un videogioco con un renitente alla leva che cerca di attraversare il Tibisco però se non lo attraversa velocemente viene trascinato dalle acque e muore sostengono che questo videogioco dovrebbe scoraggiare i renitenti quindi in questa situazione di mobilitazione totale con gli ucraini che stanno all'estero che si vedono i passaporti bloccati che non possono fare delle normali operazioni ricordiamo quell'operazione di propaganda clamorosa appena è scoppiata la guerra diretta tra Russia e Ucraina con i corridoi umanitari le persone che si partivano da Napoli con il pulmino e arrivavano sino a Ivano Franchisk per portare i poveri ucraini adesso i poveri ucraini non sono più poveri sono traditori e vanno riconsegnati alla patria per fare da carne da cannone nella guerra di Biden contro Trump quindi questi cosa ci fanno qui probabilmente fanno soft power fanno propaganda sia per quanto riguarda la sensibilizzazione nei confronti della guerra quindi mandate le truppe italiane in Ucraina ma non credo che sia questo il punto della questione quanto anche delle operazioni di ucrainizzazione chiamiamola così abbiamo visto tutte le varie campagne di russofobia che ci sono state sia nel 2022 ma che ora continuano addirittura chiedevano hanno chiesto di sospendere una lezione universitaria su Dostoievski poi hanno chiesto di sospendere la prima della scala cosa che non è successa però insomma ci sono delle operazioni che non cadono così dal cielo c'è un programma c'è un progetto ci sono delle organizzazioni che chiaramente ricevono dei finanziamenti non sappiamo da chi che chiaramente si muovono in maniera coordinata non solo in Italia ma in tutti i paesi dell'Occidente che agiscono in questo modo quindi è chiaro che c'è una politica che spinge verso questo chiaramente non possiamo dire il complotto dico assolutamente non è questo però ci sono dei programmi di sostegno culturale che che vanno avanti e io credo che questi personaggi siano qui per fare per fare questo soprattutto in realtà come Napoli dove insomma abbiamo visto che ci sono dei problemi con i banderisti ucraini ci sono altri interventi altre domande scusate vorrei salve tutto Siro Achille di Freedom Pisa la chat telegram vorrei sapere se potete commentare un attimino la notizia per cui l'Italia è diventata un centro di operatività della Nato nuova ad Olbiate Olona Varese la notizia di qualche giorno fa grazie sappiamo l'Italia essere un paese strategico sia dal punto di vista geografico essendo sostanzialmente una grande porta aerei sul Mediterraneo che ha delle basi importanti nato e statunitensi sul proprio territorio Sigonella da cui partono i droni che prima venivano citati e che operano proprio nei territori di conflitto qui Camp Derby che è sostanzialmente la base che a livello logistico è la più grande al di fuori degli Stati Uniti da qui viene movimentato quasi tutto quello che comunque gli Stati Uniti poi spostano in Europa come in Medio Oriente e come quindi anche verso il conflitto russo-ucraino quindi ecco credo che questa decisione sia sostanzialmente un po' in linea con quello che è il carattere geostrategico dell'Italia che da sempre è stata vista come un paese importante per la Nato e per le proprie operazioni oltretutto adesso che con il governo Meloni insomma trova un appoggio molto non che quelli precedenti non fossero ecco così accoglienti però il governo Meloni che tanto diciamo si è vantata di essere sovranista nazionalista e chi più ne metta e che poi comunque è una partecipe dell'Aspen Institute di altre organizzazioni che fanno riferimento poi agli Stati Uniti sostanzialmente è il momento ideale per fare avanzare l'Italia in quella che è poi la strategia statunitense per quanto riguarda anche un po' la riforma di quelli che sono gli equilibri geopolitici in Europa dicevamo prima l'intento degli Stati Uniti con questa guerra era anche quello di disunire l'Europa che comunque negli ultimi anni qualche cosina insomma cercava di qualche spazio cercava di prenderselo la Germania nonostante tutto con la Merkel comunque benché ovviamente non potesse proprio fare quello che voleva aveva aveva preso insomma i suoi spazi anche anche troppi e infatti insomma gli Stati Uniti speciale la Germania hanno fatto capire anche con questo conflitto ricordiamo il nostro Stream 2 la Germania da questo conflitto è il paese che forse in Europa ci ha perso più di tutti una crisi economica come quella che sta attraversando la Germania non la sta attraversando nessun altro paese specie se si pensa che appunto era la locomotiva d'Europa se fermi la locomotiva ovviamente fermi tutto il resto e quindi anche in questa riorganizzazione diciamo degli equilibri credo che insomma rientri un po' in questa strategia poi in Italia trova una sponda politica insomma importante e come dicevo già il nostro territorio è insomma un territorio dove la Nato e gli Stati Uniti hanno ben salde le proprie mani hanno basi importanti e quindi ecco credo che sia sostanzialmente una conferma di quel che già si poteva così vedere ecco buonasera buonasera a tutti sono Petro e Michele sono di Lucca sono una domanda che voi sapete tante cose come mai la Radio 3 due giorni fa non ha trasmesso altro che musichetta è una cosa che non sono riuscito a chiarire gli ho mandato un messaggio a quelli della Radio 3 perché c'è tutta una programmazione che seguo sempre da 50 anni perché è l'unica radio che si sente anche se le notizie chiaramente che ha dato lei e la signora ha fatto fresco ma ho dovuto mettermi anche la maglia perché fanno venire il freddo davvero perché io premetto che ho vissuto l'11 settembre a Santiago del Cile dove ero come 73 l'11 settembre 73 insegnavo in una scuola a Santiago che sostituivo io come pacifista sostituivo il servizio militare a quei giorni andava fatto in un paese estraeuropeo c'era una legge pedini fatta per i figli degli onorevoli che andavano invece all'università della Smara finanziata dal governo italiano vabbè lasciamo perdere questa è una storia ormai vecchia però vecchia bisogna ricordarle sempre le cose anche vecchie perché gli Stati Uniti sono sempre stati antagonisti ma soprattutto mi dispiace una cosa che non avete mai citato secondo me il principale responsabile di tutta questa baracca qui che sono gli inglesi non nominate mai gli inglesi che sono alla base di tutto non sono mai entrati in Europa ci sono usciti con l'intento di distruggere l'Europa di sfare l'Europa e sono riusciti a salvarsi dai tedeschi perché l'America è sempre intervenuta a favore dell'Inghilterra chiamata l'Inghilterra sia nella seconda guerra mondiale che nella prima perché anche la prima guerra mondiale per evitare che l'impero austro-ungarico unificasse l'Europa sono intervenuti gli stessi perché c'è sempre la vecchia teoria che vige tuttora che l'hanno applicata sempre in Iraq anche Saddam disse non vi dividete cioè del dividi e timpera quando riesce a creare che devo dire sono intervenuti come che devo dire in Iraq intervennero ma non aveva mica bisogno di intervenire in Iraq gli americani che Saddam era un loro agente contro l'Iran ma ci intervennero per mettere in subbuglio in Europa perché Berlusconi trovò i dieci paesi fra i quali i principali erano la Spagna e l'Italia che appoggiarono l'invasione dell'Iraq e intervennero sempre per dividere l'Europa per danneggiare l'Unione Europea perché gli Stati Uniti sono solo loro perché la supremazia ce l'hanno loro perché loro sono uniti e noi no noi dobbiamo essere divisi e rompono le scatole ora un fatto principale che hanno ha facilitato questa operazione militare che non è solo militare è diciamo scientifica è economica cioè il fatto che ora si può trasportare il gas naturale via nave congelato è il fatto che ha permesso alla Polonia di staccare i tubi dalla Russia anche se ci attraversano ancora anche l'Ucraina continua a riscuotere le royalties diritto di far attraversare i tubi e ne va bene ne va bene però il fatto di portare il gas naturale con una nave una nave di gas liquido che c'è anche a Livorno che l'ha messa a Piombino ha permesso alla Polonia di staccarsi e ha permesso all'Ucraina di fare la stessa mossa così come le Repubbliche Baltiche è stata questa operazione questa possibilità di trasportare che non ce l'ha neanche il gas naturale a Russia l'America da portare lo tira fuori dalle argille spaccando i sottosuoli eccetera che anche in Italia potrebbero hanno provato anche le cose ma venne il terremoto dall'Emilia lasciamo perdere questo può essere un altro discorso ma questa possibilità che hanno cioè hanno rotto i tubi ma i tedeschi cioè soprattutto l'America e l'Inghilterra ce l'ha con la Germania giustamente dici quella più danneggiata è la Germania ma è proprio quello che è stato voluto te guarda quando hanno trovato le auto inquinanti tedesche perché inquinavano quelle americane no sono dei catorci enormi quelle non inquinavano e però quelle che lasciamo perdere è proprio una battaglia per l'egemonia ma soprattutto per riuscire a dividere l'Europa perché l'Europa unita ha delle belle menti gli manca l'energia purtroppo e gli tagliano i tubi chiaramente che vuoi fare tagli i tubi e buonanotte ora quando taglieranno i tubi di internet si sta già attrezzando con milioni di satelliti per evitare che ci sono i tubi che passano in Mediterraneo sull'imes c'era io l'ho letto lì perché purtroppo quando si parla con la gente è difficile riuscire a parlarci di cose concretamente perché l'informazione passa tutta attraverso la televisione in Italia la gente normale è informata dalla televisione c'è una monovisione del mondo io non capisco come si fa ora a accettare di avere in Europa dei dirigenti che non hanno niente a che vedere con l'Europa la dirigente della Repubblica Baltica hanno nominato quell'altra la 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 è sempre stata contro la Germania non capisco hanno trovato l'hanno scelta proprio con il lumicino quelle donne lì no e un'altra cosa la presidente della cosa l'hanno fatto una inglese no una fila inglese che è di Malta che è stata sempre sotto la regina e di Inghilterra no parlano inglese tutti per dire no quindi come si fa essere avere dei dirigenti europei così meschini così c'è chi di fronte a a a una politica angolo americana perché bisogna dire angolo americana perché l'americano è poco è angolo americana soprattutto quando la guerra grande scoprirà quando taglieranno quei 32 cavi che attraversano il Mediterraneo e collegano l'oceano atlantico col pacifico che passano nel Mediterraneo sono 32 cavi di un diametrino così c'è le fibre ottiche di internet quando tagliano tubi del gas si è visto ora c'è il sistema con le navi no si è detto via ho tediato abbastanza molto semplicemente perché perché l'Europa è una colonia statunitense non chiamiamo l'America chiamiamo gli Stati Uniti l'America è un continente è semplicemente per questo sembra l'Unione l'Inghilterra continua a nominare ma io non solo la chiamo Inghilterra vuol dire che non mi segui Sottolina ti puoi prendere il podcast e la chiamo Inghilterra perché a Gran Bretagna non esiste è l'Inghilterra che è un impero e continua ad essere e continua ad esserlo comunque gli equilibri mondiali geopolitici li tengono ancora gli Stati Uniti che hanno colonizzato l'Europa hanno creato l'Europa appunto per farne un ipotetico campo di battaglia nella guerra prima contro l'Unione Sovietica e poi contro la Russia perché questo siamo profondità strategica per l'Europa per gli Stati Uniti seconda seconda terza linea in questo momento prima linea in caso di un confronto diretto gli Stati Uniti hanno spostato le loro frontiere in Europa quindi molto semplicemente tra l'altro la Germania esattamente come l'Italia è un paese sconfitto dalla seconda guerra mondiale è un paese che ha goduto di un certo periodo di sovranità quando c'è stata l'unificazione quando conveniva allargare ad est i confini della Nato quindi includere la Germania dell'est e finire con quell'esperienza socialista nell'unico paese già industrializzato del blocco socialista ma evidentemente se Washington perché immagino che sia stato Washington decide di far saltare Nord Stream e gettare perdonatemi l'espressione con il culo per terra la Germania dando un grosso vantaggio alla Polonia e ai paesi baltici perché il giorno dopo in cui è stato sabotato lo chiamano così sono stati sabotati i Nord Stream il giorno dopo è stato inaugurato il Baltic Stream quindi evidentemente la Germania non è altro che una colonia esattamente come l'Italia quindi per questo l'Europa prende ordini dagli Stati Uniti e in secondo luogo dall'Inghilterra perché non c'è mai stato un progetto per unificare l'Europa i popoli d'Europa forse ci ha creduto l'Italia non ci ha creduto la Francia non ci ha mai creduto l'Inghilterra perché ognuno cerca di portare avanti le proprie strategie all'interno di quello che è il consesso europeo ma non c'è chiaramente l'Europa è una diciamo una comunità prima del carbone poi economica poi un'unione monetaria ma sappiamo che non è un'unione di popoli che non è una confederazione non c'è nessun progetto non c'è neanche una costituzione affinché lo diventi e sappiamo che Schengen non dipende neanche dall'Unione Europea e in qualsiasi momento può essere sospeso senza nessun tipo di problema quindi insomma direi che anche è un'utopia quella dell'Unione Europea purtroppo fino adesso abbiamo la storia ha dimostrato che l'unico modo per unire dei popoli è stato o il socialismo oppure una dominazione imperiale una battuta sola su questo discorso della Germania perché appunto veniva citato il Dieselgate che colpì anni fa la Volkswagen quando venne fuori appunto che inquinavano le macchine poi è successo appunto del Nord Stream 2 che ha colpito vasti settori produttivi oltre al settore energetico tedesco adesso c'è il Pfizergate perché 10 o 12 stati degli Stati Uniti hanno fatto causa a Pfizer per diciamo informazioni false riguardo ai vaccini ad mRNA però guarda caso non fanno causa a Moderna che è statunitense e che ha fatto gli stessi vaccini quindi è chiaro che il gioco è quello io direi di chiudere perché abbiamo sforato anche abbastanza comunque continueremo nei prossimi giorni a discutere di questi argomenti venerdì sempre al Parco Robinson nel panel per una rete contro basi e militarizzazioni dove ci sarà Antonio e poi sabato mattina mi pare alle 11 però non mi ricordo qual è l'area continueremo a parlare di Ucraina di ascesa del nazismo e di risposta internazionalista con Alberto Fazzolo e sempre con Michele Manfrin grazie 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 grazie